Lui è andato avanti anche dopo perché su per le montagne c'erano sempre quelli che erano abituati a fumare tabacco, quella cartina che costava poco rispetto al tabacco, era sempre contrabbando, ma non per la richiesta, ma per campare. Io sono venuto su che quando ho avuto 7-8 anni, dopo il 48, così, 47-48, ero cominciato a vedere pane, però si mangiava solo polenta, minestrone, fagioli, polenta, polenta, il maiale d'inverno, galline, era, non so come si può dire, i fascisti la chiamavano, come la chiamavano, autarchia, ogni famiglia aveva il suo, capito? Poi nel condimento si usava solo il maiale, lardo e strutto, insomma, non si usava olio, comprare olio costava troppo l'olio, non c'erano soldi, insomma, capito, voglio dire, se uno doveva, non so, comprare un vestito, doveva vendere un vitello, vedessimo che roba è la, insomma, capito, qualcosa, insomma, un po' di formaggio, faccio per dire, faccio per dire, le uniche entrate che c'erano erano quelle che potevi anche, potevi vendere anche un po' di, che so io, di grinto, o un po' di polenta, insomma. Dopo non c'è pericolo, comunque, mi ricordo che venivo con i famigli elementari, stava sempre qualche frittura che aveva paura. Grazie. 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 Grazie.